Musica Io voglio anche rispondere a chi mi chiede dell'On. Giovanni Dima, persona che io stimo, comunque non l'ho mai vista in questa campagna elettorale, non l'ho mai vista nella presentazione della mia lista, non l'ho mai vista nella stesura della lista. Per questo voglio dire, ripeto, nessuna e nessuna critica rivolta, perché io non sono il tipo di persona che fa questo, però questo sta a voi a giudicare i fatti. Io posso assicurare che nessuno del PDL uscente è venuto a darmi sostegno. Musica 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 Giovan Dima, persona che io stimo, comunque non l'ho mai vista in questa campagna elettorale, non l'ho mai vista nella presentazione della mia lista, non l'ho mai vista nella stesura della lista. Musica Musica Musica